Ma che cos'è quel nodo in gola che mi assale? Che cos'è se qui con me è questa assurda solitudine? Perché? Ma che cos'è se per l'Evon il volo è sempre libertà? Perché per noi invece c'è qualcosa dentro che non va, che non va. Nostalgia, nostalgia, canagna che ti prende proprio quando non vuoi. Ti ritrovi con un cuore di paia, è un incendio che non spegni mai. Nostalgia, nostalgia, canagna di una strada, di un amico, di un bar. Di un paese che sogna e che sbaglia, ma se chiedi poi tutto ti va. Chissà perché si gira il mondo per capire un po' di più, sempre di più. Tu vai lontano e perdi un po' di ciò che sei. E poi perché? Un'avventura è bella solo per metà. Mentre si va, quel dolce tavolo all'improvviso tornerà. Nostalgia, 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 canagna che ti prende proprio quando non vuoi. Ti ritrovi con un cuore di paia, è un incendio che non spegni mai. Nostalgia, 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 canagna di una strada, di un amico, di un bar. Di un paese che sogna e che sbaglia, ma se chiedi poi tutto ti va. Nostalgia, nostalgia, canagna che ti prende proprio quando non vuoi. Ti ritrovi con un cuore di paia.